Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana il dispositivo dei controlli del territorio, compresa la vigilanza fissa ai mori d'imbarco in aeroporto e sulle isole del Golfo, volte a monitorare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus. In totale tra venerdì e domenica scorsi sono state controllate tra il capoluogo e l'area metropolitana 868 persone e 140 attività commerciali, 33 le sanzioni complessive. Cittadini sorpresi fuori dal proprio comune di residenza, in orari non consentiti, senza un valido motivo, senza dispositivi di protezione individuale o a consumare cibi e bevanti all'interno di bar, queste le principali violazioni registrate. E poi quelle situazioni illecite tipicamente di interesse delle fiamme gialle, come contrabbando di sigarette, spaccio e uso personale di sostanze stupefacenti e commercio di botti illegali. Più in dettaglio il secondo nucleo operativo metropolitano nel quartiere Agnano, nel corso di un controllo presso un circolo privato ha sequestrato 312 euro in contanti e 6 videoslot prive di autorizzazioni e non collegate alla rete tematica. Denunciato è sanzionato il gestore del centro scommesse, sia perché doveva restare chiuso, sia per la mancata esposizione della tabella giochi proibiti. La compagnia di Portici ha sanzionato un'associazione sportiva direttantistica che era aperta al pubblico anche a persone non tesserate dalla Federazione Italiana Biliardo Sportivo, nonostante i divieti disposti alla chiusura del circolo per 5 giorni. Inoltre dai controlli anti-covid sono emerse anche altre situazioni illecite e notoriamente di diretta competenza del corpo. La compagnia di Castellammare di Stabia ha tratto in arresto a Vic Quenze un 26enne pregiudicato nei cui confronti sono stati trovati a seguito di una perquisizione domiciliare, 500 euro in contanti e due penetti di hashish del peso complessivo di circa 200 grammi occultati all'interno di un cassetto della camera da letto. La compagnia di Torre annunziata nel corso di una perlustrazione di un'area incustodita adibita a cantiere edile ha scoperto all'interno di un rudere diversi involucri di cellophane trasparente termosaldato contenenti 154 grammi di cocaina e 367 grammi di marijuana. Le stesse fiamme gialle hanno sequestrato a Bosco Reale anche 18.100 fuochi virotecnici contenenti 12 kg di polvere da sparo messi in vendita da un negozio di articoli per la casa abusivamente e senza certificazione per la prevenzione di incendi, denunciato responsabile.